oggi che data è? oggi è 19 febbraio 2015 e noi abbiamo fatto prima il tour alle piramidi ricordi? ricordi? dove siamo andati? siamo andati alle piramidi alla sfinge alla piramide a gradoni a saccara che è stato bellissimo si lavoriamo da gradoni a saccara e memphis e anche nelle tombe vicino a saccara alle mazzave di saccara che è stato stupendo e voi siete andati alla crociera? com'era? la crociera è meravigliosa, bellissima tutto a posto? si si stupendo ricordate il nome di vostra guida? amani eccellente mi vedete? ecco la amani ciao amani allora il nome dell'agenzia lo ricordate? si tu egyptour ah il sito egyptonlinetour.com ma l'agenzia si chiama maestro online travel si chiama maestro online è vero allora voi incoraggiate le persone a venire a vedere Egitto in questo periodo? si si è tranquillo è bellissimo è sicuro? si è sicuro sicuri che è sicuro? si si è sicuro perchè ci sono clienti che dicono che no e il ministro italiano dice non andare si vuole partire no 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 è assolutamente sicuro non ho mai avuto nulla e come sentite con gli egiziani? bene bene a casa? si ok grazie a voi e oggi tanti turisti che vengono a vedere anche il museo egizio anche voi tanto tempo per entrare al museo egizio perchè tanta gente è venuta a visitarlo quanti sono? ciao Greta cosa vuoi dire? ti è piaciuto tanto mi è piaciuto tanto ti è piaciuto tanto? anche tu mi è piaciuto tanto adesso non vediamo l'ora di vedere le mummi è vero? è vero andiamo ero? è vero andiamo? è vero! è vero andiamo la domanda? è vero andiamo